e alla fine togliendo l'abbiamo riscaldato un buon giugno sono alcuni giorni da 9.30 euro ma non è una partita non è una gara come? non è una gara no, non lo sto attacchiando assolutamente no, non lo sto solo meglio non è una gara ah si è a chiusa un po' quasi ah si 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 guardate dove vede? poi ho un po' caro guarda si non c'è problema ma è ancora un po' qui allora la macchia qua è un 0.25 25 nm da 3.25 tutto bene in mezzo questo è un metro di 4 km il marica è un metro di 4 km in mezzo il mare è un metro di 5 km un metro di 5 km quindi le spice il augurio 5 km certo sonorijchi Torn Dlatego gallon calm prossima E vado verso la montagna Allora, Portolos da 12 gradi L'H102420 Un nodo tra 2 e 1 e 0 L'H102360 Gigliamo Lo riapriamo Allora, lì è posto Sì, sono stati messi 20, sì Ci si è visto già andando E là anche forse Allora, l'h102420 E' un piccolino attraverso Questa è il carico Allora, dai il motore progressivamente Perché li temi Allora, l'ho Grazie a tutti. 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 Sì, dai, dai. Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.